Allora qui abbiamo il nostro buon mozzo e questo è un mozzo di una Turbulence, quindi una del 2000-2001 Prendiamoci un attimo, il nostro disco, il disco della Sonata, 280 ventilato, 4 fori, andiamo a metterlo sopra Questo sicuramente sarà da ritoccare perché in questo caso ci spruscia Ma lo scopo adesso qual è? Quello di verificare che questo Vediamo di inquadrarlo meglio Abbassiamolo Eccolo qua, si vede Questo punto corrisponda con la nostra pinza Eccola qua, questa è la pinza doppio pompante della Santa Fe Quindi dobbiamo andare a mettere questa pinza Allora, andiamo a verificare Ok, abbiamo constatato Che ci siamo Vediamo se lasciandola rimane Ok In questo caso andiamo a verificare qua sotto Qui corrisponde Vediamo Il telefono E qua E qua Corrisponde Quindi questa pinza Ci sta Allora Allora Allora, ho bloccato Questa pinza In modo Che il disco giri Perché Dovrebbe essere la posizione Più giusta Quindi adesso andiamo a fare la prova del 9 Vediamo se La nostra buona ruota Entra Allora Sembra di sì Al pelo Ma sì Sembra che è Allora A questo punto Togliamo Il telefono Guardate Questo è il disco originale Entra soltanto un pezzo Un millimetro Oltre La stiscella Ok La stiscella Sono circa Due millimetri Arriveremo a due e mezzo Tre Tre Millimetri Andiamo a vedere sotto Quindi qui Abbiamo spazio Quindi qui Non abbiamo particolari problemi Come vedete L'ho bloccato Con un bulone E con una vite In modo che sia Giusto In modo che sia giusto E con una vite Che